Ciao a tutti, oggi vediamo queste forbici appena arrivate. Si tratta di forbici di premana, professionali in acciaio inox, quindi made in Italy al 100%. Sono in particolare forbici adatte a taglio di capelli, peli e anche pelo di animali. La particolarità è che sono molto lunghe, 8 pollici, ovvero oltre 20 centimetri. Hanno una lama micro dentata, proprio per non far scivolare il pelo o il capello. Come vedete anche l'appoggiadito. E questi due gommini particolari, che possono essere anche tolti, adesso vi faccio vedere come. In caso diano fastidio, i gommini si possono togliere. C'è questo dente di appoggio per la perfetta coincidenza delle lame. Le punte sono leggermente arrotondate sulla parte finale, proprio per non rischiare di far male alla persona o all'animale a cui si va a tagliare i capelli o i peli. Qui vediamo con una lente, non so se riuscite a vedere, la micro dentatura di una delle due lame. Abbiamo anche questa foto dove si vede già meglio la lama micro dentata. Sono forbici che potete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com Insieme a tante altre forbici, accessori, coltelli, tutti professionali made in Italy. Io vi aspetto per i prossimi video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica. Ciao a tutti, a presto!